E per comprendere meglio le potenzialità di questa soluzione abbiamo in collegamento in diretta Silvia Pontarelli, responsabile modelli di assistenza clienti di poste italiane. Buongiorno Silvia, grazie per aver accolto il nostro invito. Buongiorno Francesca, buongiorno a tutto il pubblico e grazie veramente per l'ospitalità in questo spazio. No, grazie a te. Abbiamo visto nel servizio come l'intelligenza artificiale stia supportando tutta l'attività di assistenza alla clientela. Ma da dove nasce questa esigenza di utilizzare l'intelligenza artificiale e soprattutto in che modo viene utilizzata da poste italiane? Allora Francesca, l'occasione mi è quanto mai ghiotta per parlare brevemente in generale del concetto di intelligenza artificiale, ripartendo dal senso delle parole, in particolare dall'etimologia della parola artificiale. che è contrapposta al termine naturale, quindi di per sé potrebbe evocare un senso negativo. Eppure artificiale viene dalla parola latina artificialis, deriva da artificio e significa, pensate un po', abilità, maestria, grande capacità di fare cose. Se portiamo, semplificando ovviamente questo concetto nell'ambito dell'intelligenza artificiale, potremmo riferirci a delle macchine che hanno una grande capacità di elaborare dati o di compiere azioni in maniera molto veloce. Vi starete chiedendo se è perché sono particolarmente geniali o creative. Di fatto no, è l'uomo, è l'essere umano che le progetta, le allena e le rende in grado di emularne comportamenti, senza che queste abbiano delle capacità cognitive. Ovviamente riescono molto bene di dove i compiti sono molto standardizzati, molto ripetitivi, molto semplici e di grande volume. Arriviamo così al mondo dell'assistenza clienti, peraltro un ambito dove veramente a 360 gradi nel mondo si sperimenta tanto in termini di introduzione dell'intelligenza artificiale con una certa dose di successo. Quando parliamo di intelligenza artificiale in poste nell'ambito assistenza, ci riferiamo all'assistente digitale poste, a questo esserino giallo e blu con un'antenna briosa, che di fatto funziona secondo questa meccanica. Un cliente o un cittadino possono, sui canali su cui è presente tanto vocali, ad esempio numeri verdi, oppure testuali, come le chat, esprimere la propria esigenza e farlo in maniera completamente naturale, quindi con un linguaggio personale, tanto che a volte sconfina anche nel dialetto e l'assistente digitale si sta adoperando sempre più per comprendere anche queste forme. In questo modo il cliente o il cittadino più in generale possono esprimere la loro esigenza di assistenza, che nel caso di poste italiane può essere la richiesta di un saldo, di una lista movimenti, la tracciatura di un pacco. L'intelligenza artificiale a questo punto si attiva, comprende ove possibile l'esigenza e la risolve, diversamente attiva una vera e propria staffetta con il collega umano, con l'operatore. Ed ecco che si pone completamente a sostegno dell'essere umano, da un lato del cittadino, nella misura in cui lo rende sempre più autonomo a soddisfare delle esigenze appunto di assistenza e lasciatemi dire anche a formarlo all'uso di questi nuovi mezzi, dall'altro a sostegno dell'operatore, del nostro collega del servizio clienti, che può così dedicarsi ad attività più complesse, a sviluppare la relazione con il cliente e fatemi dire anche a svecchiare un po' il proprio mestiere, perché sempre più gli operatori ormai da qualche tempo stanno anche partecipando in maniera molto fattiva all'allenamento dell'intelligenza artificiale stessa. Quindi un aiuto concreto sia per i clienti che per i dipendenti. Ma in concreto appunto, su quali servizi attiva l'intelligenza artificiale? Allora Francesca, oggi parliamo di uno stato dell'arte di presenza molto importante, devo dire grazie al lavoro corale che viene fatto con energia e entusiasmo da tanti dipartimenti dell'azienda. È presente infatti sui servizi finanziari, quindi mondo post e pay, mondo banco posta, tanto su canali vocali quanto testuali, come dicevo prima, quindi sul numero verde 800 003322, ma anche in forma di chat sul sito post e pay piuttosto che poste. E ancora è presente su esigenze di tracciatura di pacchi e posta, sul recupero delle credenziali. E vi sarà divertente insomma far notare anche come copra due canali apparentemente molto distanti tra di loro, esigenze espresse sul canale WhatsApp, ad esempio per prenotare un ticket per lo sportello, e esigenze di accettazione di un telegramma sul canale 186. Ed ecco che l'intelligenza artificiale si pone, fammi dire un po' come trade union tra due mondi, la contemporaneità e la storia, per sostenerle e proiettarle verso il futuro. Ma non è finita qui, nel senso che l'intelligenza artificiale in termini di assistenza dà una mano anche su servizi che sono nati apposta per il periodo Covid, già nella prima ondata. sostiene ad esempio Target un pochino più agé, che hanno necessità di recuperare il giorno esatto in cui andare a ritirare la pensione. Quindi si è nata diciamo il più possibile al cliente. Esattamente. Ma a questo punto ti chiedo, ma quali sono gli sviluppi futuri? Soprattutto l'intelligenza artificiale sarà ampliata su altri servizi di poste italiane? Assolutamente sì, parliamo di un futuro già prossimo, perché già nei mesi di aprile e maggio l'assistenza sarà fornita tramite intelligenza artificiale anche su servizi di tipo speed, piuttosto che su pratiche ISEE, che sappiamo essere sempre più sollecitate per via dei tanti interventi governativi, piuttosto che sui servizi assicurativi, quindi del mondo poste vita, poste assicura, fino ad arrivare a nuovi servizi come ad esempio la fibra e a target diversi, quindi non solo più per cittadini, ma anche per clienti impresa, quindi a fine anno partirà anche a supporto di clienti business. E poi tra qualche tempo si affaccerà anche presso gli uffici postali per dare una mano sempre sull'assistenza a persone che qui transitano. E allora Silvia, sicuramente ne riparleremo nei prossimi giorni e soprattutto quando sarà attiva su altri servizi faremo un altro aggiornamento. Grazie Francesca, grazie a tutti. Grazie a te Silvia, grazie mille e buon lavoro.